Ma c'è un diritero lì. Ma che ne so? Dai prof, tu ti metti davanti. Ma questa macchina, ma com'è che funziona? Ah, così. Pronto? E' un top! Hai visto che roba? Ma no, questo è qui. Manca un minuto! Manca un minuto! Un minuto! Aspetta, mi sono... Dai! Dai, vai, vai! Ma no, stai qui, non succede niente. Ma di cosa? Ma di cosa? Ma di cosa? E poi due? Vai! E' finito! No, non è finito. C'è quello! E' un top! E' finito! Fila! Vai, vai! Ok, vai, vai, vai! Ah! Beggio, beggio! Andrea, se non tacchi i mani di tutto, no Andrea? No, sopra è chiuso. Dov'è? La miccia la vedi? Dai! Mamma, ti puoi salvare? Grazie!